Ciao a tutte, nuovo video che si aggancia al video precedente il video precedente era sui rossetti lucidalabra, insomma prodotti labbra della Benecos che è un marchio tedesco che fa prodotti ecovio, certificati, prezzi bassissimi prodotti di qualità a parer mio ottima e quindi niente ora vi mostrerò i prodotti occhi i prodotti viso che non sono tantissimi quelli che ho comprato e la matita per sopracciglia già che ve la faccio vedere, ah qua c'ho i swatch dei rossetti, sto facendo i video già che ne faccio uno ogni 10 anni, tento di farne un pochino di più così ne ho pronti aspettate che faccio una cosa, ecco, tipo, sì, vabbè, ok cancellati i swatch dei rossetti, parto subito, matita per sopracciglia io ho scelto la Gentle Brown che è la marrone un po' più scura questa è la matita, è già stata temperata perché l'ho già usata per chi fosse interessata il marchio di certificazione è il BDH quindi insomma è una delle certificazioni più stringenti ecco qua, quindi ho preso la Gentle Brown, quella un po' più chiara e il colore è questo qui, quindi è il classico marrone più chiaro per chi ha le sopracciglia relativamente chiare come le mie Natural Eyebrow Designer, una matita, una matita tranquillissima con lo spazzolino questo, cioè c'è lo spazzolino tipo scovolino del mascara quindi non quelle col pettinino rigido chi è che ce l'ha così? la Catrice? No, non me lo ricordo, insomma c'è quelle altre matite per sopracciglia spesse e volentieri hanno il pettinino, ecco che non è che mi fa impazzire, questo qua secondo me è molto molto più comodo più comodo per pettinare le ciglia e sfumarle il colore mi piace moltissimo la consistenza anche, dura a lungo mi piace, mi piace, mi piace, mi ci sto trovando benissimo come in realtà un po' con tutti i prodotti della Benecos mi sto trovando divinamente poi matite e occhi matite e occhi ho preso quattro colori che non sono proprio i colori quelli che adora nel senso mi piacciono tutti però i colori che io uso normalmente di più di matite sono il grigio e il marrone il nero non lo uso proprio e dato che le avevo già le avevo già altre matite bio della Lepo della Lepo, minerale puro insomma, diciamo che di quei colori standard che uso sempre già le avevo delle matite di buona qualità e quindi ho preso dei colori un po' diversi allora, comincio subito se no qua chiacchiero, chiacchiero, non vi faccio vedere niente allora, la prima si chiama Bright Blue ovvero un blu chiaro vabbè, io quasi eviterei questo tedio di mettervi a fuoco tanto sul sito quelli sono non è che ci sono 6 miliardi di colori quindi questa è l'azzurro chiaro è meglio che vi faccia vedere il colore è l'azzurro chiaro è una specie di celeste è anche turchese è un blu blu chiaro secondo me la definizione è giustissima bello, questo mi piace moltissimo scrivono benissimo all'interno dell'occhio sia all'esterno, durano tutto il giorno adesso lo swatch sulla mano se non lo levate e anche se vi lavate le mani col sapone lui non se ne va reggono tantissimo ora, l'inci di questa io non lo so forse sul sito c'è comunque l'inci è quasi tutto naturale di queste matite ora non so come faccio a tenersi là per sempre immagino che qualche alcol ci sarà, non lo so però reggono in modo impressionante quanto una matita piena di silicone buono, buono, buono mi piacciono, mi piacciono moltissimo sono molto morbide scrivono benissimo allora, questo era il bright blue quindi il blu chiaro dopodiché ho preso il night blue ovvero il blu notte molto carino anche lui che è diciamo quello che io uso al massimo per avvicinarmi all'idea di matita nera è un colore scuro ovviamente è un bel blu scuro che a me piace moltissimo come colore poi la matita scura in genere la uso relativamente però è molto carina ma me ne sono persa una ah no, eccola, scusate che ti piace di stare poi ho preso il verde allora di verde ce ne sono due questo è green poi c'è un'altra che si chiama olive mi pare che dovrebbe essere un verde oliva a seconda del nome ma a me il verde oliva il verde militare in genere non è che mi faccia impazzire il colore è questo ma si vedrà qualcosa è un bel verde acceso molto carino che secondo me questi colorini così accesi tipo maioncino verde per l'arrivo della primavera che dando uno sguardo qua e là sto notando che andranno moltissimi colori pastello come tutte le primavere secondo me ma comunque questa primavera pubblicizzano tanto questi colori pastello e questo verde secondo me è molto carino se uno vuole dare un tocco di vita un tocco di colore una botta di colore e per finire ho preso un ah per loro queste sono natural kajal per loro sono kajali in effetti sono molto morbide però messe anche all'esterno non colano anzi restano lì buone, ferme, zitte ora non so d'estate con 40 gradi che succede però dalle recensioni dalle recensioni che ho letto in lungo e largo pare che siano molto molto valide l'ultima ho preso la white quindi la bianca che è un classico che non muore mai che io uso moltissimo non è proprio un bianco un biancolatte è abbastanza più un color crema molto chiaro io la uso sia all'attaccatura per illuminare lo sguardo a volte su tutta la palpebra mobile sfumata con il ditino per illuminare un pochino l'occhio o comunque dargli un minimo di di freschezza quando proprio non ce lo possiamo fare e all'interno a seconda del trucco per ingrandire un po' lo sguardo insomma inoltre la potete usare tranquillamente come per contornare le labbra e poi sfumarla come la perfettina della della neve cosmetics che immagino non avrete sentito parlare ma per chi non lo sapesse se uno vuole ingrandire un pochino le labbra darle più volume si può passare una matita bianca all'esterno del bordo delle labbra si sfuma delicatamente con il ditino dopodiché si mette la matita colorata il rossetto quello che più vi piace e l'effetto è di labbra un pochino più carnosa e bene e e quindi secondo me ecco è la sostituta ideale costa 2 euro e qualcosa quindi costa quanto costano le matite? non mi ricordo la fattura ce l'ho da qualche parte comunque sul sito potete vedere tranquillamente sotto i 3 euro e anche questa è morbidissima e devo dire che scrive tantissimo cosa che le matite bianche normalmente è sempre difficile da da trovare buone 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 e fine delle matite viso vi faccio vedere i prodotti invece per il viso che si le matite viso che ho detto? ho detto le matite viso mi sa vabbè lasciate perdere fate finta di niente è tardi sono stanca no vi faccio vedere i prodotti viso dopo avervi fatto vedere le matite per gli occhi questo è l'arteriosclerosi galoppante allora prima o fra tutti un blush credo siano nuovi non lo so non ci ho capito un tubo perché non me ne intendo questo si chiama natural powder blush quindi oltre a rimbambita neanche riesco più a parlare si chiama mellow rose ed è quello rosa freddo allora questo mi pare di ricordare che esista in tre colorazioni un rosa freddo un color salmone che mi sa che si chiama salmon o qualcosa del genere che proprio non ce la potevo fare perché ho continuato a ordinare no vabbè non ordinare però ho provato un sacco di di blush color albigocche colori caldi color salmoncini corallini però non mi piace cioè alla fine l'effetto finale non mi fa impazzire quindi sono tornata dei miei adorati colori freddi che non sbagli mai vabbè e a me piacciono i colori freddi poi ognuno giustamente fa come gli pare vabbè sulla mano non si vedrà niente è un bel un bel rosa freddo molto carino la scrivenza medio alta buona non è una cosa eccessa buona anche questi certificati biocertificati l'inci non c'è quindi non vi so dire niente ma anche in questo caso l'inci sono quasi sicura che sia più che buono come tutti i prodotti Benecos l'altro blush quindi sono tre il rosa freddo il salmone e voilà e poi c'è lui che si chiama toasted toffee che lui è un marroncino che mi piace dai impazzire che visto qua dice ammazza che schifezza e invece messo sul viso è bellissimo rimane un po' caldo cioè come colorazione tende un po' non dico l'arancione però ad essere un colorino abbastanza caldo qua non si vede niente perché sotto c'avevo gli swatch e ero casino fatto vabbè non si vede niente comunque niente che dire non lo so se si vede comunque molto molto carino il sottotono è caldo quindi se pensate di usarlo come terra per fare contouring non ve lo consiglio perché è comunque tende un po' troppo ad essere non aranciato però insomma qualcosina c'è dentro però è molto carino molto 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 carino anche lui bene quindi per riassumere rosa freddo toffee quindi un marroncino però caldo e voilà e dopo per finire no non è per finire ma quasi giuro che ho quasi finito di tediarvi quanti minuti 11 minuti per farvi vedere due cose per finire ho voluto provare la cipria compatta la natural compact powder mattifying quindi dovrebbe essere no in realtà lo è è molto una cipria mattificante quindi dà l'effetto matt l'ho presa perché non perché mi mancasse la cipria ma perché il colore della cipria all'epoca usavo che era quello super chiarissimo mi pare il numero 6 non me lo ricordo più non lo fanno più e la mia cipria è quasi finita ci sono proprio dei tocchettini proprio arrivata al dunque quindi ho voluto provare una nuova cipria questa si chiama porcelain quindi mi aspettavo un colore molto molto chiaro perfetto per la mia pelle color cadavere e se me la fate vedere eccola qua è lei quindi è una cipria molto chiara l'effetto è molto mattificante io ovviamente io la metto con il pennello con il pennello rimane molto leggera fa il suo dovere ora non ho idea se messa con un piumino o con un kabuki rimanga molto più pesante perché normalmente io non la metto mai a strato a strato pesante quindi io ci vado abbastanza leggera un po' con con tutti con tutti i trucchi però ecco questa cipria non ha niente da invidiare ad altre ciprie biocertificata e che più volevo dire ai prezzi volevo dire ma ovviamente non me li ricordo vabbè non più di 5 euro ecco questi eppure i blush 3 euro 3,50 4 insomma circa meno di 5 euro ecco qualcosa del genere quindi molto carini i prodotti viso mi stanno piacendo se vi interessano contenuti scadenze cose strane ve le dico sono la cipriona da 9 grammi i blush da 5,5 e il pao il pao i teteschi non usano il pao ah qua dice che scade l'11 2014 e i blush idem quindi scadono tutti a novembre 2014 carino che mettono proprio la data di scadenza però dipenderà un po' da quando l'hai aperta non lo so ci ho capito un tubo fate finta che è così e l'ultima cosa l'ultima cosa la finisco qua la Benecos non so se già prima li facesse ma fa dei prodotti sia per il viso che per il corpo mi pare sì shampoo crema ero curiosa di provarli però non potevo comprarmi tutto ecco verde e ho voluto provare la crema per le zampe la crema a mani la crema a mani anche questa biocertificata inci buono ottimo non ci sono ovviamente paraffini siliconi parabeni cose del genere cosa dice qua c'è in italiano sì cura cura naturale per le mani con una selezione di ingredienti bio made in Austria ah quindi non sono tedeschi sono austriaci vabbè che più o meno vabbè comunque bellina carina l'ho già provata l'ho già usata come vedete dal tubetto un po' un po' spiacicato e ha una crema a mani molto leggera non unge affatto si asciuga molto si asciuga molto velocemente ecco se cercate l'impacco crema a mani bello pesante bello unto no è un'emulsione leggerissima che magari vi posso far vedere che non so se si capisce però vedete proprio leggera 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 molto molto fluida vabbè comunque buona mi è piaciuta anche questa e questa costa una stupidaggine 2 euro 50 3 euro non lo so non me lo ricordo abbiate pietà vi lascio sempre il link di ecco verde se siete interessati a fare quello il cordillino per qualsiasi dubbio amletico mi iscrivete sotto vi mando un bacione alla prossima ciao ciao